Ci sono libri che parlano di giochi di prestigio e libri che presentano giochi di prestigio. The Magic Show di Mark Setteducati e Ann Benkovitz si chiude con un esperimento di escapologia. Il libro mette in scena la sfida tra Ann e Mark che presentano il loro spettacolo e Ivan, un mago il cui spettacolo è stato cancellato. Come ultimo numero della serata, Mark cercherà di liberarsi da questa cassa all'interno della quale viene incatenato. Durante la sua fuga, Ivan presenta il suo numero di mentalismo. Ci invita a pensare un numero da 1 a 10 e noi per esempio pensiamo al 3. Seguendo le istruzioni sulla sfera, ci chiede di moltiplicare per 2 il numero e arriviamo a 6, di aggiungere 4 e arriviamo a 10, dividerlo per 2 e arriviamo a 5 e sottrargli il numero pensato, 5 meno 3, 2. La tua risposta è 2! Esatto, Ivan ha indovinato. Ora gira la pagina e guarda dentro la cassa. Tornando alla pagina precedente e aprendo la cassa, Mark è sparito. Dove è finito? Dobbiamo girare all'ultima pagina e con un inchino Ann ci saluta rivelando Mark al vostro applauso.